Buongiorno, buon sabato mattina, ben ritrovati alle 7.30, siamo in diretta per Occhio ai giornali come ogni mattina. Sono già pronti sul noto touchscreen, ma guardiamo innanzitutto per ordine il salto del giorno e poi le previsioni del tempo per questo fine settimana. Oggi sabato 17 dicembre è Sant'Olimpia, il sole è sorto alle 7.36, sorgerà alle 7.36 fra qualche minuto, quindi, e tramonterà alle 16.32. Previsioni per questo fine settimana, dicevamo, iniziando da oggi, il cielo è parzialmente nuvoloso, con presenza di basse nubi e ci sarà un'alternanza anche di schiarite, nessuna precipitazione prevista e quindi insomma i fenomeni sono naturalmente da segnalare, quelli delle foschie che come vedete compare anche la simbologia. Per domani invece il cielo sarà più sereno e quindi con il sole compariranno anche le gelate, le precipitazioni però non ci saranno, temperature in diminuzione soprattutto nei valori minimi, quindi farà ancora più freddo, gelate mattutine appunto nel fondo valle. lunedì inizio della settimana nuova, quella che poi insomma sarà la settimana di Natale, ecco il cielo sarà poco nuvoloso a partire da lunedì, però con aumento di copertura nella seconda parte della giornata, anche per lunedì non è prevista nessuna precipitazione. Allora, questo è archiviato il tempo e l'almanacco, passiamo alle notizie, le notizie che naturalmente troverete nei giornali, faremo un sorvolo su quelle che sono le notizie principali. Partiamo dal resto del Carlino, l'edizione appunto di Pesaro, la pagina di Pesaro, fotonotizia centrale, vedete, dicevamo l'anno, la settimana entrante è quella che porta al Natale, quindi il Natale alle porte, si comincia la corsa ai regali e insomma all'interno delle pagine del Carlino c'è anche un decalogo, una piccola guida per orientarvi nei vostri acquisti e poi solo l'impianto di cremazione è unico, nel senso che Fano e Pesaro condividono questo nuovissimo impianti, sono divisi sull'ospedale ma uniti in questa operazione. E poi ecco qua, vediamo anche un'intervista importante nelle pagine interne dell'inserto al nuovo primario della chirurgia che dice appunto Zingaretti sostituirlo è un fardello, attacco ai tumori, difendo appunto il merito e con me i pazienti non aspettano, vedete in una foto Alberto Patriti, il nuovo primario, giovenissimo primario, 43 anni di chirurgia di Marche Nord. Si parla anche di impianti sportivi nella pagina di Pesaro, si sta ultimando la piscina, una nuova piscina, sopralluogo decisivo in via Togliatti, la piscina aprirà a settembre, il presidente della federazione del Pentatron, a marzo ci sarà la consegna, marzo 2017 appunto. Le pagine di Fano del resto del Carlino, c'è un controordine in provincia, il Cecchi, quindi la sede distaccata dell'Agraria, sembrava che non potesse venire a Fano, invece sarà ospitato a San Lazzaro e ci saranno anche gli studenti del liceo artistico. A Fano arriva la sede distaccata del Cecchi, il bienio dell'istituto agrario in città nell'anno scolastico 2017 e 2018. Ancora nelle pagine che riguardano Fano per il resto del Carlino, si parla come avete visto in apertura, in pagina, in testa, il progetto comune tra Fano e Pesa sull'impianto di cremazione, un impianto modernissimo che servirà quasi tutto il centro Italia, attivo dal 23 di gennaio, può soddisfare sei richieste al giorno. È ubicato al cimitero dell'Ulivo e sono stati investiti quasi due milioni e mezzo per questa struttura all'avanguardia. L'ultima pagina che vi propongo del resto del Carlino per quanto riguarda la cronaca di Fano, si parla di aeroporto, Silvia Ceccarelli dell'Enac parla e dice clima molto positivo, rapporti mai ricevuti, l'incontro ad Ancona, il tavolo con l'amministrazione e con tutte le società. Vedremo come andrà a finire anche questa vicenda dell'aeroporto. Vi porto nelle pagine, archiviato il resto del Carlino e del Corriere Adriatico, l'altro quotidiano che vi facciamo sempre vedere ogni mattina qui a Fano TV. L'apertura è diversa, si parla sempre di Natale, ma di un Natale molto più solidale. Perché? Perché i cesti natalizi sono sicuramente un regalo, sono sicuramente una parte esenziale di questo periodo per le aziende, per i privati, per ringraziare qualcuno. E allora se ci dobbiamo mettere dentro dei prodotti, mettiamoci dentro i prodotti che provengono dalle zone terremotate, perché insomma tra Marche e Umbria in quella zona di aziende che possono riempire un cesto natalizio ce ne sono sicuramente e quindi insomma con tanti prodotti, con tante eccellenze nel cesto proveniente anche da quelle parti sarà sicuramente un cesto più solidale. Tra l'altro vi ricordo che anche in centro, sotto Palazzo Gabuccini, l'associazione Apito ha allestito appunto un mercatino con i prodotti acquistati proprio in quelle zone. Quindi se volete potete fare una doppia opera di beneficenza. Ancora si parla appunto di solidarietà, eccola qua, ve lo faccio vedere. Questo fenomeno va a ruba, quindi solidarietà per i prodotti, corsa alle eccellenze regionali e i pacchi d'ono sono le delizie natalizie con la solidarietà. Entriamo nelle pagine di Pesaro, del Corriere Adriatico, che riguardano appunto la cronaca, anche qui il Natale, si parla di Natale, di eventi natalizi, Natale si fa in tre, i quartieri festeggiano, Piazzeredi, Baia, Flamini e Via Gioriti preparano un weekend carico di eventi. Però se da una parte c'è qualcuno che festeggia e passa in allegria, in armonia, il Natale c'è qualcuno che non ha pace e anche a Pesaro, come è avvenuto a Fano, la vandali in azione, presi di mira gli orti giuli, trafugano l'albero di Natale, dopo appunto l'episodio increscioso di San Costanzo, anche qui, doveva essere addobbato dal Comitato Nato per salvaguardare lo storico parco, ma insomma niente pace, la stupidità non ha mai pace neanche sotto Natale. Andiamo a Urbino, la pagina di Urbino, che riguarda appunto la città ducale per il Corriere Adriatico, Guardia di Finanza in azione, doveva assistere un anziano, era appunto il curatore giudiziario, gli ha sottratto 67 mila euro e quindi la Guardia di Finanza giustamente ci ha messo le mani. Fano, per quanto riguarda il Corriere Adriatico, si parla appunto dell'impianto di cremazione, Unione che va oltre, apre l'impianto di cremazione, vedete qui nella foto del Corriere Adriatico tutti i soggetti interessati, i presidenti di ASET e i due sindaci, naturalmente questo è il momento dell'inaugurazione, ASET e ASPES. Allora, questa è la tombola vincente di Sant'Orso, le tombole in questo periodo vanno per la maggiore e ce n'è una addirittura insomma umana, una tombola vivente fatta dai bambini, questo andrà in scena a Sant'Orso, oggi pomeriggio l'evento nel centro commerciale del quartiere organizzata appunto dall'attivissimo quartiere di Sant'Orso. Nell'altra pagina, sempre che riguarda la cronaca di Fano, si parla dell'incidente, ho corso ieri, insomma poco dopo le sedi, le 16 lungo la via Flaminia, con la BMW, vedete, nella scarpata in mezzo al campo e poi in questa pagina si parla anche di impianti sportivi, se a Pesaro inaugurano una piscina, a Fano c'è una pista Zengarini, insomma che langue in condizioni poco edificanti da incompiuta, affatiscente. A parlare è insomma Ceresani, Stefano Ceresani, che è un insegnante di educazione fisica in pensione e cultore del podismo e insomma che denuncia questo stato così insomma di abbandono e dice non è più a norma per fare gare federali la pista Zengarini. Nella pagina della Val Cesano si parla di case, abitazioni, un piano casa che è da rivedere per abitazioni e alberghi, documento della CNA ai tecnici del, insomma per il comune, il monito, basta vincoli, serve una delibera, siamo appunto a Mondolfo per sviluppare un piano di inizio adeguato ai nostri giorni, sempre nella pagina della Val Cesano, Margherita, vent'anni d'amore, battaglia etica, vinta grazie, un traguardo per il centro educativo di sviluppo dei 5 comuni, applauso dei sindaci. Ancora l'ultima pagina che vi propongo, come sempre quella della città limitrofe di Senigallia e anche qui iniziative per il Natale e attenzione anche ai botti in attesa della fine dell'anno. Rock'n'roll in piazza, ballo scatenato e con il mercato i commercianti ambulanti finanziano gli eventi estivi con i pittori in strada, ma i carabinieri sono in azione, attenzione ai botti, parola degli artificieri dell'arma per il capodanno sicuro, quindi per la fine dell'anno, attenzione a dove li comprate, quali sono, comprate quelli a norma, perché, insomma, spesso e volentieri, insomma, qualche incidente durante l'ultimo dell'anno, insomma, i pronti soccorsi sono in grande allerta proprio per questi botti che alle volte non sono proprio sicuri, soprattutto, insomma, quelli provenienti da zone non molto chiare, insomma, comprateli nei negozi specializzati che abbiano tutte le autorizzazioni, perché, insomma, deve essere un divertimento e non un momento, insomma, di tragedia. Bene, questo è quanto, grazie per essere stati in nostra compagnia, termina qui quest'ultima rassegna stampa della settimana, Occhio ai giornali torna lunedì mattina, puntuale alle 7.30. Buon fine settimana a tutti voi! Grazie a tutti!